Prendo quattro uova e le metto nella ciotola, poi aggiungo 60 grammi di zucchero e comincio a montare con le fruste. Perfetto, ci siamo. A questo punto aggiungo 50 grammi di olio. Io sto usando l'olio di girasole, ma va benissimo in qualsiasi altro olio con cui vi trovate bene. La aggiungo gradualmente. Perfetto, ci siamo. Come vedete il composto è diventato bello chiaro e sfumoso. Metto via le fruste, non ci servono più. Adesso aggiungo 140 grammi di farina. Io sto usando la farina del grano saraceno, come vedete, ma ovviamente potete usare anche un altro tipo di farina che preferite e quella quale vi trovate bene. Anche qui l'aggiungo gradualmente e mescolo con la spatola. Ecco qui che bella consistenza cremosa. Adesso non ci resta che aggiungere il lievito, quindi aggiungo 3 grammi di lievito in polvere per dolci. Lo setaccio, perché ci sono dei grumi. E ora adesso il composto in una teglia rettangolare. La mia è 26x38. Io ho appoggiato sulla base un foglio di carta da forno e ho anche spennellato con dell'olio. In questo modo staccheremo meglio poi la nostra base una volta cotta. Quindi vado a distribuire il composto. Con la spatola cerco di distribuirlo uniformemente in tutta la teglia. E adesso in forno, nel forno statico prediscaldato a 180 gradi per 10 minuti. Ci siamo, abbiamo sfornato la nostra base. Dopo 10 minuti esatti, come vedete, è lievitata perfettamente. Adesso ancora calda la base, la prendiamo e la mettiamo su un canovaccio bagnato. Questo è bagnato e strizzato. Quindi questo passaggio deve essere veloce perché poi dobbiamo far raffreddare la base all'interno del canovaccio. Quindi arrotoliamo delicatamente. Esatto, perché se aspettiamo troppo poi il rotolo raffredda. Cioè l'impasto raffredda e non si riesce più ad arrotolare. Bravissimo. Così invece è perfetto. E adesso lo facciamo raffreddare completamente in questo modo. E adesso prepariamo la nostra crema. Io qui ho dello yogurt di soia, come vedete colato. Quindi qui abbiamo il siero e qui invece abbiamo il nostro classico formaggio vegetale che ormai conoscete in tantissimi. Guardate che meraviglia. Quindi qui ho messo quattro vasetti di yogurt di soia al naturale da 250 grammi e l'ho fatto colare per tutta la notte. Adesso questo formaggio vegetale lo metto in una ciotola diversa. Ora aggiungo 60 grammi di zucchero. Mescolo tutto. Praticamente questo farà da mascarpone, giusto? Bravissimo, esatto. Però non è mascarpone. Non è mascarpone, però comunque avrà comunque lo stesso sapore, insomma, formaggioso. Sarà perfetto per questa ricetta. A questo punto riprendiamo il rotolo, che per ora è vuoto, ma noi adesso lo riempiamo. Certo. Lo srotoliamo delicatamente. Rimuoviamo il canovaccio. Guardate che bello. Si è srotolato perfettamente. E adesso cosa si fa? E adesso ovviamente inzuppo la base con il mio caffè. Questo è il caffè già zuccherato. L'ho preparato prima. Quanto caffè serve più o meno? Circa 200 grammi, dovrebbero essere sufficienti. Ok. Ingeppiamo proprio per bene. E adesso siamo pronti per farcirlo con la nostra crema. Adesso aggiungo anche delle gocce di cioccolato fondente. Che non possono mai mancare. Bravissimo. Soprattutto in una ricetta del genere. E beh. Poi una spolverata di cacao amaro. Poi arrotoliamo. Ci aiutiamo con la carta da forno. Vi anticipo ragazzi che questa sarà la cosa più buona che voi abbiate mai assaggiato. Ci fermiamo qui. E adesso lo appoggio su una gratella con un piatto sotto. Aggiungo ancora del caffè. Per inzupparlo proprio bene. E dopo averlo tuffato nel caffè, cosa facciamo? Andiamo a decorarlo con la crema che ci è avanzata. Ma lo ricopriamo proprio con la crema. Spolverata di cacao. C'è un profumo di ara di caffè. Buonissimo. Ora prima di tagliarlo ragazzi, ditemi un po' come fa a non piacervi questa meraviglia. Mi raccomando lasciate un mi piace a questo video e condividetelo per noi importantissimo. Così più persone potranno fare questa meraviglia e in questo modo ci supportate. E noi saremo ancora qui anche domani a fare un video per voi. Tagliamolo Diana, tagliamolo. Vediamo un po' come è venuto. Ragazzi. Ma che meraviglia è questa cosa? Cioè io non ho parole per descriverlo, guardatelo qua, guardatelo anche qua. Cioè ma che goloso è. Wow. Diana, metà mio metà tuo eh. Va bene, va bene. L'importante è che assaggiamo. Assaggio subito. Tra l'altro il tuo pezzo è gigante. Vero. Com'è? Mamma mia che ricetta sublime ragazzi. Buona eh? Wow. Cioè tra questo e il tiramisù originale c'è una differenza. Grazie. Grazie.